Il calcio di serie D Il calcio di serie D Salvo un cambio di modulo con la scelta di tre attaccanti In difesa dovrebbe esserci un avvicinamento naturale con la barba pronto a sostituire l'assente Van Zand Uomini a parte che scenderanno in campo contro i laziali La piazza si aspetta subito un ritorno alla vittoria Senza se e senza ma Serve riprendere il cammino e portare a casa non solo il successo domenica al Selvapiana Ma anche contro il Chieti nel turno successivo Abbiamo di fatto appreso di un cambiamento di obiettivi dal tecnico Cudini Che in sostanza ha detto che nessuno gli ha chiesto di vincere il campionato Probabilmente è vero anche se credevamo di aver capito altro durante l'estate Come è vero che si pensava quantomeno di lottare per le prime posizioni E su questo siamo in assoluto ritardo con un passivo abbastanza ampio La classifica è di fatto spezzata con le due battistrada che hanno fatto il vuoto rispetto al Montegiorgio Che oggi occupa la terza posizione a quota 20 Un campionato livellato verso il basso nel carderone di centro classifica Sono raccolte praticamente tutte le squadre a dimostrazione di un torneo Dove i valori si equivalgono, eccezione fatta per le prime Intanto segnaliamo che la partita Chieti-Campo Basso in programma il prossimo 24 novembre È stata anticipata a sabato 23 sul campo neutro di Ortona Sempre alle 14.30 I lavori di manutenzione in corso di svolgimento allo stadio Angelini non sono terminati Dunque nuovo cambio di sete per la società abruzzese Che dopo aver giocato a Pineto e Città Sant'Angelo sarà ospite dell'Ortona Il vasto Girardi prepara la sfida interna al Chieti Mister Farina dovrà rinunciare al capitano Sergio Ruggeri Fermato per tre giornate dal giudice sportivo Dopo l'espulsione rimediata a Montegiorgio durante l'intervallo Punizione davvero severa Stessa sorte toccata all'attaccante del Montegiorgio Titone Ruggeri salterà la sfida di domenica Poi Giulianova e San Giustese Un'assenza pesante per Farina che dovrà valutare il sostituto nell'ampio periodo Pronto a subentrare Matteo Corbo che in diverse circostanze nel corso degli anni Ha spesso ricoperto il ruolo di difensore centrale Questa è la soluzione più plausibile anche per non snaturare il sistema di gioco Chieti in serie nera Solo quattro pareggi immaturati nelle ultime otto giornate La vittoria per i teatini manca addirittura dal 15 settembre Precisamente dal 3 a 1 in casa del Porto Sant'Elpidio 11 punti per i neroverdi Al momento in zona play-out con una classifica corta Detto questo il vaso Girardi ha bisogno di riprendere la marcia per la salvezza diretta 16 lunghezze in campionato per gli uomini di Farina Che devono sfruttare nel migliore dei modi una sfida diretta tra le mura amiche In casa bisogna continuare a macinare punti e mantenere l'imbattibilità Ad oggi violata solo dall'Agnonese Se proprio vogliamo considerare questo dato Per ovvie ragioni di stesso impianto di gioco Farina si affida ai suoi attaccanti Petrone e Chiere Mateng Oltre che a Varsi che in non perfette condizioni Ha iniziato dalla panchina le ultime due gare Insomma ritrovare il successo e allontanare una diretta concorrente Questo l'obiettivo dei gialloblu In casa Granata staff tecnico e squadra Sono concentrati per l'importante trasferta di Tolentino Stesso discorso fatto per il vaso Girardi Uno scontro diretto dove bisogna portare a casa punti Il Tolentino è terzo ultimo Con 10 lunghezze Frutto di due vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte In casa il rendimento dei marchigiani è stato altalenante Con 3 pareggi, 2 sconfitte ed una sola vittoria Insomma una sfida sicuramente complicata Ma non impossibile per gli uomini di Mr. Pizzi La forma dell'Olimpia agnonese è sotto gli occhi di tutti In 6 giornate 4 vittorie Con le sconfitte arrivate contro Campobasso E Notaresco, sicuramente sconfitte con l'onore delle armi L'identità di squadra è arrivata La prova lampante domenica scorsa Con l'inferiorità numerica gestita dal minuto 19 del primo tempo Una prova di forza che può far solo crescere le potenzialità Di un gruppo che sta dimostrando di avere valori importanti E sicuramente regola per l'obiettivo salvezza Toccherà ancora a Coneggio giocare nel ruolo di centroavanti Per ovviare la seconda giornata di squalifica di Acosta Non solo mancherà nuovamente Europa H Squalificato per recidività in ammunizioni Per sostituire il centrocampista si giocano il posto Perkovic e Diarrà A proposito della squadra Ai nostri microfoni il terzino Nicolao Noi venivamo da una grande partita fatta lì Contro la capolista Abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo Oggi meritavamo la vittoria L'abbiamo dimostrato Nonostante avessimo un uomo in meno Credo che la Iesina non ci ha mai messo in difficoltà Non ci ha mai fatto un tiro in porta Il secondo tempo A meno che ricordo importante Quindi una grande partita Sono contento per noi, per tutti Basket femminile Il Palapirastu di Cagliari Ospiterà il primo impegno della nazionale femminile Nell'ambito delle qualificazioni europee del 2021 Oggi le azzurre di coccia Andrea Capobianco Scenderanno in campo contro la Repubblica Ceca A partire dalle ore 20 e 30 Domenica 17 si replica in casa della Danimarca Alle 15 e 30 Le azzurre sono state sorteggiate nel girone D Che comprende anche la Romania all'europeo Accedono 14 nazionali Ovvero le prime di ogni gruppo E le 5 migliori seconde Si avvicina la 46esima edizione della Sue Giù Domenica con partenza prevista alle 10 Le strade di Campobasso Saranno invase dai partecipanti Della gara amatoriale Organizzata dal gruppo sportivo Virtus Carlo Gentile tecnico e dirigente del gruppo sportivo Virtus Una Sue Giù dal buon sapore diciamo quest'anno 60 anni 46 anni di Sue Giù 60 anni di società I numeri crescono Per fortuna che i numeri crescono Questo sta anche a significare che probabilmente anche la proposta Che la stessa Virtus Il gruppo sportivo Virtus Mette in campo A disposizione dei cittadini E' una proposta che sostanzialmente attira Ed è portatrice anche di qualche valore sicuramente Non per niente anche la Sue Giù Rappresenta sicuramente dei valori Incarna dei valori Valori che attengono molto alla partecipazione Che attengono molto all'aspetto della democratizzazione Attengono molto al problema della libertà Io vedo molto nella Virtus E soprattutto in questa manifestazione Queste espressioni di valori Dove i cittadini veramente si possono sentire partecipi Ma allo stesso tempo liberi Attraverso una manifestazione podistica Di poter vivere perché no Anche la propria città Ma forse direi qualche cosa in più La provincia, la stessa regione In una maniera molto più aperta Molto più dinamica E dove sicuramente anche il rapporto Con gli altri concorrenti Con le famiglie Perché no anche con gli animali Con i cani Ha questa grande apertura di disponibilità E di volersi comunque ritrovare Intorno ad un evento E anche ad un obiettivo Che è quello della Sue Giù Non ci saranno né vincitori né vinti Come sempre Perché la Sue Giù è democratica Quindi di conseguenza Vinceranno tutti Dai più piccoli ai più grandi Anche agli amici a quattro zampe Perché avete varie classifiche Poi la fine stilerete Vinceranno tutti Il punto non è tanto realizzare L'obiettivo della vittoria O conseguire comunque Il record della manifestazione È una manifestazione di tipo Potremmo definirla popolare Ma nel senso di partecipazione di popolo Potremmo definirla aperta Perché non ci sono limiti Addirittura anche gli amici a quattro zampe Qualora si iscrivessero E quindi riuscissero a portare un pettorale Fanno parte della manifestazione A dimostrazione del fatto Che l'apertura anche mentale Verso le situazioni Che si possono incontrare Che si potrebbero creare È talmente forte Che il limite non viene posto Ma la cosa importante È appunto Che vogliamo trasmettere Attraverso lo sport E attraverso una manifestazione Di questo tipo Un messaggio di alta partecipazione A prescindere dal fatto Di aderire o meno Ad un'associazione sportiva Ad una società sportiva Ma il fatto stesso Di comunque promuovere Il movimento Promuovere la possibilità Che le persone hanno Questa disponibilità E questa possibilità Di poter vivere Il proprio tempo libero Anche attraverso il movimento Attraverso una corsa pomeridiana O domenicale La SUEGiu vuole Che questo venga Maggiormente evidenziato La stessa Virtus Vuole che venga Maggiormente evidenziato A dimostrazione del fatto Che comunque la libertà Delle persone Deve essere molto più ampia E mai limitata Sotto nessun aspetto La formazione di pugilato Del Cusmo Lise Ha lavoro per due appuntamenti La finale del campionato Italiano Categoria Youth In programma Nel fine settimana In Abruzzo E la Coppa Italia Amatori Di Gym Box Vediamo Siamo con Teresa Teresa Mascione Del Cusmo Lise Atleta di Light Box Iniziata la stagione Come sta andando? Molto bene Molto positivo Ci stiamo allenando Tantissimo Soprattutto In proiezione Della Coppa Italia Che abbiamo a dicembre Inoltre abbiamo avuto Già un successo Da parte di un nostro Atleta Che è Antonio Vitale Che si è aggiudicato L'accesso ai campionati italiani Che deve gareggiare E deve gareggiare Proprio fra 15 giorni Dal punto di vista Personale Soddisfatta Di come sta procedendo La preparazione? Molto soddisfatta Anche perché Stiamo dando Il meglio di noi Ci stiamo impegnando A ottenere Grossi risultati Dopo quello Ottenuto a luglio E cercheremo Di raggiungere Il traguardo Più alto Il movimento Di Letbox Fugilato Al Cusmo Lise In crescita In ascesa Grazie All'ottimo lavoro Che state svolgendo Insieme al Maestro Francesco Pisapia Sì Devo dire Che quest'anno Ci sono stati Numerosi iscritti La pubblicità E Comunque Gli eventi A cui abbiamo partecipato Hanno prodotto L'accesso A nuovi ragazzi Che sono molto propensi A voler Gareggiare Insieme a noi Infatti La Coppa Italia Ci sarà anche Una new entry Con noi Un ragazzo nuovo Che è entrato Proprio quest'anno Per la Coppa Italia Diciamo Qual è l'obiettivo Per il Cusmo Lise? L'obiettivo principale Ovviamente È arrivare Sul gradino Più alto Del podio Cercando Di scavalcare Tutti quante Le altre regioni Cercheremo Di fare possibile Anche perché Affronteremo Nuovamente Le altre regioni Che abbiamo affrontato A luglio Nel campionato italiano Dando uno sguardo Diciamo A quello che è Lo sport In sé Pugilato Light box Sport duro Ma che regala Comunque Soddisfazione È uno sport Completo Più che duro E comporta Comunque Un allenamento Diciamo Pesante Che Comprende Varie Varie Discipline E Cerchiamo Sempre Di dare Il meglio Anche perché Per ottenere Risultati Bisogna Allenarsi Duramente E a lungo E costantemente Soprattutto Diciamo Con il Cusmolise Il vostro Un binomio Vincente Insomma Si lavora In sintonia Vi trovate Bene Nella struttura Dove si potrà Arrivare Ringraziamo Prima di tutto I responsabili Del Cusmolise Che ci hanno Permesso Di usufruire Di attrezzature Quest'anno Ci hanno Dato anche Nuove attrezzature Un nuovo sacco Ad acqua Che Ci ha permesso Comunque Di allenarci Diversamente Anche In maniera Molto Più dura E Ringraziamo Anche il nostro Allenatore Francesco Pisapia Che Costantemente Ci Allena E Ci tiene Costantemente In preparazione In vista Dei prossimi Campionati Calcio A 5 Di serie B La Chaminade Sabato Farà visita Al Molfetta Sicuro Assente Caddeo Squalificato Tornando al successo interno Con il Giovinazzo Ai nostri microfoni Il centrale Gonzales Pabllo Gonzales Al termine Di un 5 a 4 Pirotecnico Contro Il Giovinazzo Gran primo tempo Da parte vostra Sofferenza Nel secondo Quando c'è stato Il ritorno Degli avversari Una squadra Quotata Questo Giovinazzo Sì Sappiamo noi Che era una partita Difficile Il Giovinazzo Una squadra Forte Forte Sul primo tempo Penso che noi Abbiamo giocato Benissimo Penso che abbiamo fatto Il meglio Primo tempo Della stagione Però sul secondo tempo Non lo so Abbiamo calato un po' Anche è vero Che loro hanno usato Sul campo Con quella cattiveria Con quella forza No Dopo loro hanno segnato Due o tre gol di fila Difficile per noi Però meno male Che alla fine Loro hanno giocato De 5 Abbiamo avuto L'opportunità Di segnare il 6 a 4 E così ha finito Che cosa è successo Nel secondo tempo Dopo lo straordinario Primo La cosa che penso io Che abbiamo calato Un po' fisicamente Anche un po' Con il risultato Che stava 5 a 1 Noi abbiamo Rischiato troppo Con la Anche psicologicamente Anche psicologicamente Lo penso Sì E quello Penso che è Quello che è successo Sul secondo tempo Assaminate che si tiene Stretta questo Primo posto Pensa alla trasferta Di Molfetta Cercherete di recuperare Energie mentali E fisiche A questo punto Perché questa partita Ve ne ha Ve ne ha tolte molto Sì Sappiamo che Giovinazzi Era una partita difficile Adesso Molfetta fuori Che è una Un'altra partita Molto difficile Però noi Con sempre Lo piedi nella terra Con calma Con la fiducia Con il lavoro Che sta dietro Che lo fa il mister Così dobbiamo lavorare Fino alla fine E dopo vediamo Dove stiamo Fino al campionato Basket femminile Di serie A2 Sempre sabato Con palla 2 Alle 18.30 Al Palavazzieri Da calendario In programma L'ottava d'andata Nel Girone Sud Tra la Molisana Campobasso E l'Atena Roma In dubbio La presenza Del quintetto Capitolino Che già lo scorso Fine settimana Ha disertato La gara interna Con un vertide Campionato d'eccellenza Il Baranello Ospite Della Capriatese Per cercare Continuità Emanuele Di Chira L'allenatore del Baranello Arriva a questo punto Casalingo Con il Rocca Sicura Partita molto intensa Combattuta Da alloggiare però La prova del Baranello Che ha tenuto a testa Una squadra Che è costruita Con altri obiettivi Sì Credo che Anche perché È venuto a vedere La partita Sia stata bella Bella da guardare Loro Inutile dirlo Hanno un potenziale Un potenziale Impressionante Siamo stati in partita Perché abbiamo messo Cuore, voglia Tanta corsa E poi è chiaro che Il campo Il campo Ci ha dato Anche con un pizzico Di fortuna Ci ha dato Questo risultato positivo Sono molto contento Per i ragazzi Sono stati Sono stati straordinari Perché Come hai detto tu Abbiamo affrontato Una grandissima squadra Quindi quando questa squadra Si è calata Nella mentalità Dell'eccellenza Sembra che sia Davvero cresciuta Quindi quest'anno Ci si possono togliere Anche belle soddisfazioni Ma non possiamo Permetterci Cali di tensione Assolutamente In nessuna partita La salvezza Non ce la regalerà Nessuno Dobbiamo costruire Partita dopo partita Punto dopo punto Con le prestazioni Come quelle Come quelle di oggi E' chiaro che poi Nel calcio La prestazione Non è sinonimo Garanzia di punti Oggi l'abbiamo raccolto Sono molto soddisfatto Perché ci stiamo allenando Bene anche durante Durante la settimana E ripeto Oggi abbiamo guadagnato Un punto meritatamente Ancora con il favore Del campo Lisernia Domenica arriva Il Guglionesi Simone Calabrese Questo pareggio Fa più comodo A Lisernia Che al Vairano Assolutamente Sì Un pareggio Meritato Che comunque Abbiamo fatto Una partita Abbastanza discreta E siamo contenti Di questo punto Che ci portiamo a casa Molto bene in difesa Contro una squadra Insomma Che Vice capolista Ma In attacco Qualcosa è mancato In attacco Sì Qualcosa è mancato Bisogna Bisogna migliorare Ogni giorno di più Agli allenamenti Comunque Siamo una squadra Giovane Dobbiamo migliorare Comunque Il risultato Insomma È un signor pareggio Questo qui Contro il Vairano Giusto? Assolutamente Sì Il Boiano Ospite del Termoli Nelle prossime ore Castelluccio Dovrebbe tornare Alla guida Del club Adriatico E quindi La squadra Dovrebbe scendere Regolarmente In campo Domenica Contro il 19 Perché Potevate trascorrere Un secondo tempo Più tranquillo Sinceramente Più tranquillo Perché Appunto Potevamo andare in vantaggio 2-3 gol Solo che Purtroppo È andata così Siamo stati bravi A non subire gol E abbiamo portato a casa Questi tre punti Anche perché Tenerla sempre viva La partita Non era Diciamo consigliabile Soprattutto nel finale I vostri avversari Sono saliti Con almeno 7-8 unità Sì Poi erano molto fisici Quindi Mettevano la palla su E siamo stati bravi A non farci Siamo stati molto bravi A prendere le palle di testa Appunto E non subire il gol Che cosa hai visto Sul gol annullato Al 19 Tu che sei un difensore Quindi era effettivamente Dietro l'ultimo Vostro difensore Sì L'ha Sì Io ho visto che stava Appunto avanti 3-4 metri avanti Infatti il guardialine Ha fischiato il fuorigioco Boiano deve cercare Di capitalizzare Le partite interne Al massimo Quindi evitare Di perdere Al Colalillo Non so se questa Può essere una Delle ricette Per salvarsi Questa è un'arma Molto importante Perché su questo campo Come abbiamo visto Anche il Treppini Ha fatto molta difficoltà Quindi dobbiamo Sfruttare Questa arma È importante Siete in debito Di punti Secondo te Quale partita Vi lascia più rammarico Per ora Secondo me Sì appunto Come ho accennato Prima con il Treppini Vingiamo 2-1 E siamo stati Molto Inesperti Dai Perché abbiamo subito Quei due gol Nel finale Torneo di promozione Il Ripalimosani In anticipo A San Bartolomeo In Galdo Antonio Bendivoglio Mister del Ripalimosani Arriva un pari 1-1 con la capolista La Fidelis Però un po' Di rammarico C'è Come si era messa La partita Avete trovato il vantaggio Però è durata pochissimo Veramente sono Molto dispiaciuto Per i miei giocatori Perché hanno fatto Credo Una prestazione Maiuscola Sotto tutti i punti di vista Abbiamo fatto Un primo tempo Buonissimo Abbiamo creato Almeno Credo 4-5 palle gol Purtroppo Quanto non si fa gol Il calcio È spietato Loro Penso che hanno fatto Hanno creato L'unica palla gol Del secondo tempo Con quella punizione È un altro paio Di circostanze Credo che il risultato Sia bugiardo Io penso che la mia squadra Doveva vincere Questa partita Per quello che ha fatto In campo Mentre per quanto riguarda La mentalità La cattiveria Il mestiere Credo che È giusto Che siamo stati puniti Perché ormai In barriera Si mettono le mani dietro Invece noi abbiamo Concesso Un'altra punizione Sulla ribattuta È stato più veloce Dopo la grande parata Di Diego È stato più veloce Il loro attaccante Anche se mi hanno detto I miei giocatori Che è andata dentro Per una deviazione Quindi Un po' di sfortuna Ma Anche Un po' di cattiveria Che non abbiamo messo In alcune circostanze Per costanze Soprattutto nel primo tempo Perché Fai gol nel primo tempo Cambia la partita Poi abbiamo trovato Gol su un'azione Credo bellissima Che raramente si vede In queste categorie Quindi Posso solo dire Che sono dispiaciuto Per i miei ragazzi Non posso chiedergli Di più A questa squadra Quest'anno Mi sta la differenza Degli anni passati Soffrite un po' di pareggite Pareggiate un po' troppo Sì Ultimamente Credo che abbiamo fatto Questo è il quinto pareggio Di seguito E Come si dice Ne vinciamo Però Non le perdiamo neanche Quindi Però preferisci Vincere una partita E perdere magari Quella dopo Veramente No Perdere non vorrei mai Però preferisco giocare Essere meno bello Ma portare a casa punti Perché la bellezza I complimenti Non muovono la classifica Ci vogliono i punti E Certe volte Questa squadra Si specchia troppo Vuole essere troppo bella Ma Oggi per esempio Abbiamo cercato di calciare Sempre in maniera pulita Ma con un campo così Bisognava giocare Anche un po' sporco Sulle seconde palle Calciare Rasoterra Invece noi siamo sempre belli Sempre belli Dobbiamo fare per forza Grande azioni Per andare al gol Ci manca quel pizzico di mestiere Per crescere Ed essere Una squadra Veramente competitiva A tutti gli effetti Piccola parzola escusante Poi Tantissime assenze Poi a formazione completa Forse si vede anche un altro rip No A me non mi piace parlare Dell'assenza Assolutamente Questa squadra Ha 25 titolari Quindi Non mi interessa mai Chi manca Soprattutto se In quei ruoli Sono coperto Quindi oggi Per esempio L'assenza del capitano Non si è sentita Petrillo da centrale Per me ha fatto Una partita incredibile Gala Da terzino Sta facendo un campione Le ultime tre partite Sta facendo benissimo Oggi ha esordito Un ragazzo 2002 Ruta Terzino destro Che ha fatto benissimo Aveva sempre giocato Nel settore giovanile Quindi Io sono contento Sono contento Dei giocatori E' un gruppo fantastico Che si allena a mille Che deve avere solo quella malizia in più Per vincere la gara Perché ci manca quel pizzico di cattiveria Per essere come dicevo prima Una squadra che può puntare in alto Prossimo turno Si va a San Bartolomeo Contro il Fortore Una squadra difficile Su un campo simile al vostro Dove in casa poi loro Giocano un altro tipo di calcio Sarà una partita dura Però fare i punti là Sarebbe molto importante Anche per voi No Noi andiamo a cercare Di fare il nostro calcio Dappertutto Rispetto tantissimo Il Real Fortore Perché L'anno scorso È l'unica squadra Che veramente In casa Ci ha dato una lezione Ma soprattutto Per quanto riguarda L'intensità La voglia Noi soffriamo Questi campi Un po' caldi Perché Dove ti vengono ad aggredire Dove La partita Si basa Tutta su seconda e palle Perché Diciamo Non ha Questa caratteristica Ci manca Questa squadra Ha bisogno sempre di giocare Di avere possesso In fase di non possesso Siamo ancora Siamo ancora Un po' in ritardo Perché proprio Non abbiamo giocatori Con una certa Mentalità Però Stiamo lavorando Anche per questo Per essere competitivi Su tutti i campi Lo Spinete Ospiterà il Termoli 2016 Obiettivo Tornare al successo Luca Di Bartolomeo Avanti 3 a 1 Con l'uomo in meno Lì c'era il fattore evento Però comunque Non siamo riusciti a gestire La gara Insomma Questo evidenzia Gravi deficienze Tecnico-tattiche Ne paghiamo le conseguenze E torniamo a casa Con la terza sconfitta Di file Non abbiamo Niente da Insomma Questa è la gara Tornando a un aspetto Un po' più leggero Di questa partita Davvero Molti ex Per il San Pietro in Valle Che indossavano La mani dello Spinete Come li hai visti? Sì Ha fatto piacere Rivedere vecchi compagni No So che Insomma Si tengono bene Sono tutti ragazzi Che hanno passione Hanno voglia Vitone Tedeschi Diamante Sono tutti ragazzi Che insomma Hanno sempre calcato Campi di eccellenza E promozione Non è una novità Non li scopriamo certo noi Ha fatto piacere Rivederli A proposito Del Termoli La squadra di Dilena Alla ricerca Di continuità Mister Paolo Dilena Arriva una bella vittoria Importante Questa sicuramente Può dare la carica giusta Per la ripresa Nel migliore dei modi Nel corso di questa stagione Avete vinto in rimonta Nel migliore dei modi Però è una squadra Che nel secondo tempo Si è presentata Con un passo diverso Rispetto a quello Del primo tempo Ma Diciamo che abbiamo Anche trovato una squadra Che ci ha messo In grosse difficoltà Il primo tempo Non ci ha fatto Proprio giocare E quindi Hanno sfruttato Anche bene L'unica occasione Che è capitato E noi purtroppo È un periodo Che avanti Facciamo fatica A tirare in porta E quindi Abbiamo un po' Di lacune Alcune assenze Importanti Poi noi abbiamo Diciamo Un modo di intendere Il calcio Un po' diverso Da tutti gli altri Stiamo cercando Di puntare Anche sui ragazzi E oggi infatti Abbiamo iniziato Con quattro Juniores Qualcuno Qualcuno era pure Emozionato Che non aveva mai Giocato Però Alla fine Siamo contenti Perché Diciamo Abbiamo sofferto Poi Fortunatamente È entrato Cacchione Che ha dato Equilibrio A tutta la squadra Ha fatto due Tre spostamenti Con una squadra Un po' più Equilibrata Siamo riusciti A ribaltare La partita Senti Grossa concentrazione Ci ha messo la tua squadra Nel secondo tempo Soprattutto dopo aver preso Il gol del 2 a 0 A quel punto Si è scorrata di osso Ogni timore reverenziale Ed è nata Ed è venuta In possesso Delle proprie qualità Sì Io Li accuso sempre Di avere Poca personalità Di non Metterci il carattere Giusto Che ci vuole Per giocare a calcio E oggi Finalmente Mi hanno in parte Smentito Sono stati soprattutto Bravi In quelle due Frangenti Dove ci poteva essere Un gol nostro Che sembrava Ai più Regolare Anche un fallo Da rigore Che poteva Darci La voglia Di ribaltare La partita Nonostante quello Hanno continuato A macinare il gioco L'ultima mezz'ora Anche perché Posso dire Che siamo In una Ottima condizione Atletica Oggi L'abbiamo dimostrato Gli ultimi 20 minuti Siamo stati Superlativi Sorpasso in classifica Ai danni del Volturnia Una squadra che Occupa una posizione Medio alta Diciamo che a questo punto Ti ritieni quasi soddisfatto Ma sinceramente Non mi ritengo affatto Soddisfatto Perché Abbiamo dei margini Miglioramento Paurosi Solo che Ancora non riusciamo Ad amalgamarci bene Abbiamo Come ho detto Dei ruoli scoperti E spesso Anche oggi Hanno dovuto giocare In ruoli non adatti Alle loro caratteristiche Alcuni ragazzi Che però Ce l'hanno messa tutta E alla fine Secondo me È il giusto premio Al loro sacrificio Questo fine settimana Appuntamento con il Karate Al centro M2 Di Campo di Pietra Mentre mercoledì 20 Torna l'appuntamento Con il convegno Let's Movement In forma per sempre Campionato di prima categoria Non nasconde le ambizioni Di vertice La Turris Che vuole Risalire Nei campionati regionali Che contano Presidente Marino Della Turris Bella vittoria Importante 10 a 2 Partita senza storia Soprattutto Vieni da Una classifica La leadership Che avevate perso Per 24 ore Visto che Quartiere Nord Aveva vinto Bella vittoria Senza storia Per una squadra Che continua a veleggiare Nella zona alta Della classifica Sì Bella vittoria Bruciante Però Mi dispiace Per i ragazzi Del Toro Ovviamente Purtroppo Insomma Il calcio è anche questo Perché non c'è Però diciamo Che di contro Loro sono riusciti Anche a farci due gol Che non è da tutti Insomma Quindi Siamo Siamo ancora primi Conserviamo il primato E cerchiamo di restarci Però il campionato è lungo Sarà difficile Testa alla prossima E ovviamente Noi ci proviamo Ci crediamo Stiamo facendo di tutto Per mantenere questo primato Abbiamo fatto di tutto E continueremo a dare il massimo Sia in campo Che fuori Senti Io sono tornato adesso Dopo qualche anno Qui al Vincenzo Cosco Che tra l'altro Prima non si chiamava Vincenzo Cosco Ho visto che Si sono ricreati Gli entusiasmi C'è tanta partecipazione Di tifosi Voi come società Avete fatto sacrifici Avete messo insieme Una bellissima compagine Che dirà sicuramente La sua Sì 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 Infatti sono un po' di anni Che la Tourist Non è nominata Nel calcio che conta Noi i sacrifici Ne abbiamo fatti tantissimi Continuiamo a farli Perché ci crediamo Insomma Siamo una società Molto molto giovane Stiamo veramente Cercando di smuovere Un po' gli animi Di nuovo a Santa Croce Che ovviamente È un pubblico Un po' Critico E molto pretenzioso Quindi Ovviamente Loro sono abituati A vedere La squadra In eccellenza Ad altissimi livelli Noi speriamo Che in due anni Riusciremo a riportare Questa squadra Ad altissimi livelli Ci stiamo provando Ovviamente I risultati parleranno E i sacrifici Spero Verranno ripagati Per questo Senti tu Tu e i tuoi soci Quando vi siete messi A tavolino All'inizio della stagione Avevate preventivato Il salto di categoria Ci avevamo pensato Veramente Già dall'anno scorso Però purtroppo Determinate cose Non sono andate Come dovevano andare Abbiamo avuto Delle gravi pecche Anche noi in società Quindi purtroppo Un po' di cose Hanno girato Nel verso sbagliato Quest'anno ci siamo Ricompattati Abbiamo creato Un bel gruppo Anche societario Stiamo pensando C'eravamo già programmati Insomma Che quest'anno Dovevamo fare Un campionato Di altissimo livello Penso che i risultati Parlino da soli Quindi non Aspettiamo Stiamo a vedere Che succede Anche perché Insomma Come detto Il campionato È ancora molto lungo Quindi Incrociamo le dita Domani a Torella Del Sannio In programma La diciottesima tappa Del torneo itinerante Di calcio Balilla Lo staff di Trevisonno Biliardi e giochi Sta ultimando i dettagli C'è ancora tempo Per iscriversi Bene È tutto Per questa edizione Del nostro TG Sport Buon pomeriggio